L'esigenza è sempre più sentita di consultarli pressoché in ogni momento e circostanza ne ha reso in pochi anni necessario uno sviluppo responsivo, ovvero automaticamente adattabile alle proporzioni e dimensioni dello schermo dei nostri dispositivi. La stragrande maggioranza dei siti web, infatti, è progettata per consentirne una facile visualizzazione e consultazione da PC, da tablet e da smartphone. La struttura di un portale web può essere molto sofisticata e complessa, specialmente nei casi in cui il sito offra servizi, consenta ad esempio la prenotazione di eventi o l'effettuazione di pagamenti online, ossia utilizzato come vera e propria piattaforma di lavoro, come nel caso dei siti aziendali o della pubblica amministrazione. La progettazione dei siti web riguarda uno specifico settore professionale e di ricerca, precisamente l'ambito del web design, oggetto di specifici insegnamenti anche nei corsi di studio del Politecnico di Milano, a cui fin da subito rinviamo per ogni approfondimento. In questo modulo vedremo insieme come realizzare un semplice sito web, dotato di funzionalità di base utili per gli studenti di architettura, utilizzando una delle piattaforme gratuite che la rete mette a disposizione. Ci limiteremo quindi a configurare un ambiente per la condivisione online dei lavori personali e di gruppo, per l'archiviazione ordinata e protetta degli elaborati didattici, nonché per la pubblicazione in home page degli esiti più interessanti. Includeremo anche una pagina dedicata al proprio profilo personale, che possa contenere il curriculum, il portfolio lavori ed eventuali link social o ad altre risorse web. Data l'ampia gamma delle soluzioni possibili, ci limiteremo a fornire le indicazioni tecniche essenziali, lasciando alla vostra curiosità ed esperienza diretta l'approfondimento di configurazioni grafiche e funzionali più sofisticate. Che cos'è quindi un sito web? Un sito web può essere definito come un insieme di pagine multimediali, raggiungibili tramite apposito indirizzo internet mediante un browser, ovvero un'applicazione idonea alla navigazione in rete. Ve ne sono diversi, come Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla, Safari, eccetera. Pur in apparenza simile alla pagina di un libro, una pagina web è in realtà molto diversa, perché può essere multimediale, cioè ospitare oltre a testi e immagini anche audio e video. Una pagina web è inoltre normalmente collegata ad altre pagine mediante elementi cliccabili di vario tipo, quali icone grafiche a forma di pulsante, parole, immagini o contenuti audio e video. Questi elementi cliccabili, ovvero attivabili con un clic del mouse o con un tocco diretto sullo schermo dei dispositivi touchscreen, funzionano come link o collegamenti che consentono di raggiungere altre pagine o contenuti digitali. Se quindi un libro è pensabile come struttura testuale, l'insieme delle pagine di un portale web definisce una struttura ipertestuale. La prima pagina che ci accoglie viene definita home page. Da essa è possibile raggiungere le diverse pagine del portale, tramite i link che essa contiene. Ciò consente molteplici percorsi di consultazione o, come si dice in gergo, molteplici percorsi di navigazione. Tuttavia, anche a fronte di tale ampia libertà, un sito web è una struttura organizzata. Come si realizza un sito web? I sito web risiedono in rete e per realizzarli occorre avvalersi di apposite piattaforme dette hosting web. Queste offrono il necessario spazio internet e uno specifico software di progettazione, detto CMS, basato su linguaggi di programmazione web. Anche per realizzare il nostro portale ci appoggeremo quindi a un hosting web e lavoreremo con un software CMS. Gli hosting web sono in pratica spazi web offerti da società cosiddette provider o hosting provider che come servizio offerto ospitano nei loro server le pagine e i diversi contenuti presenti nei siti web. Ve ne sono molti e anche qui molto noti, ad esempio Alter Vista, WordPress, SiteGround, eccetera. Alcuni fra questi propongono soluzioni gratuite, freeware, ma spesso limitate, mentre altre, tramite contratti a pagamento, offrono servizi più completi. È quindi consigliabile valutare, in base alle proprie necessità, le funzionalità proposte dai differenti piani. In particolare, due dei principali aspetti da considerare sono il dominio e lo spazio di archiviazione. Il dominio corrisponde all'indirizzo che identifica il sito nella rete, per intenderci quello che digitiamo nella barra del browser. Nei contratti gratuiti, tale indirizzo solitamente contiene il nome del provider che lo offre. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, le soluzioni gratuite forniscono ovviamente uno spazio limitato, che è tuttavia possibile estendere anche in seguito acquistandolo dal medesimo gestore. Infine, abbiamo il CMS, o Content Management System, ovvero il software che permette l'effettiva creazione e gestione di un sito web, della sua struttura e delle diverse pagine che lo compongono, senza che siano necessarie conoscenze pregresse di programmazione web. Sulla base di queste premesse, nei prossimi video verranno approfonditi i passaggi per la creazione di un semplice sito web. Grazie a tutti.